0-0 sul campo, 3-3 dopo l'applicazione della prova TV. Il giudice sportivo Giampaolo Tosel ha sanzionato con tre giornate di squalifica il romanista Daniele De Rossi e l'interista Juan Gisus. Entrambi i giocatori sono stati puniti per le scorrettezze in area di rigore, con il pallone in gioco, senza essere stati notati dall'arbitro Bergonzi o dai suoi collaboratori. Sui sviluppi di un calcio da fermo, De Rossi ha colpito due volte il nerazzurro Mauro Icardi, prima con una manata in testa e poi con un pugno sulla guancia destra. Juan Gisus invece ha sferrato un pugno nella schiena di Alessio Romagnoli durante l'esecuzione di un calcio d'angolo. Il difensore giallorosso dolorante si è poi accasciato al suolo. Alla vigilia dell'amichevole con la Spagna, inevitabile l'applicazione del codice etico da parte di Cesare Prandelli. Il commissario tecnico ha escluso De Rossi dalla rosa degli azzurri. Sono io il giudice, non devo aspettare nessun tipo di prove, niente, sono io che guardo tutte le partite e se qualcuno di voi fa un gesto che secondo me non è in linea con i nostri comportamenti, non viene. Se il Roma e Inter hanno già annunciato ricorso contro le squalifiche ai propri giocatori, si attende anche quella del Sassuolo. Nella gara casalinga contro il Parma, Domenico Berardi, appena entrato in campo, è stato espulso per una gomitata al giallo-blu Cristian Molinaro. Tre le giornate di squalifica anche per il fantasista Neroverde. Nel frattempo, il giudice sportivo deciderà oggi se prendere in considerazione altre immagini tv che scaggionerebbero il viola Borca Valero, già squalificato per quattro giornate.